Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò insieme a Stefano come allenare gli extra dotatori. Stefano sei pronto? Allora posizione, gomiti a 90 gradi, tenere l'elastico a distanza delle spalle stringendo l'elastico all'estremità, bisogna portarli indietro, vai Stefano, verso indietro in modo tale che andiamo a lavorare gli extra dotatori, la parte posteriore delle spalle, proprio in questa zona, guarda, vieni, vieni pure, questa parte è qui, vedi come lavoriamo questa parte, rimani Stefano, rimani in contrazione, rimani in contrazione, verso indietro così, bravo, questa parte è qui, andiamo a sviluppare questa parte in modo tale da evitare infortuni presenti e futuri durante l'allenamento e evitare che magari la spalla possa andare fuori dalla sublustrazione. continuo con l'esercizio in modo tale da dimostrare alle persone che ci stanno guardando in questo momento come viene svolto questo esercizio, vai, vai più lentamente Stefano, vai, perfetto, grazie. 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 grazie.